E' così questo intervento portato avanti dalla Poliservice di sensibilizzazione verso un rifiuto che è preoccupante per la biodiversità, il mantenimento della biodiversità e dell'inguinamento marino. Quindi ecco abbiamo scelto questa posizione diciamo in tratto di spiaggia libera dove natura e spiaggia vanno a braccetto e proprio per sensibilizzare questo aspetto di rispetto verso la natura abbiamo piazzato Polinemo che invoglia così diciamo i bambini a gettare questi oggetti di plastica dentro la bocca del pesce. Infatti abbiamo visto proprio in occasione dell'inaugurazione i bambini che si sono proprio divertiti a scoprire questo piccolo monumento diciamo e soprattutto divertirsi a gettare le bottiglie dentro la pancia del pesce. Quindi ecco diciamo continuiamo questa opera di sensibilizzazione ringrazio il presidente della Poliservice per questa lodevole iniziativa e tutti coloro che hanno permesso l'ottima organizzazione e la riuscita dell'evento.